Possiamo andare al parco! Hai mangiato le verdure e fatto i compiti? Certo! Allora possiamo andare! Sì! Io adoro il parco! Io vado! I trucchi! Che belli! Metterò tutto questo rosa sulle guance! Oh! Ma che bello! Non vedo l'ora di diventare una cantante! Ok! Ora devo farmi gli occhi! Il rosa è il mio colore preferito! Anche il blu è bello! Wow! Dovrei fare la modella! Sì! Sono troppo bella! Mi servono dei brillantini! Li amo! Ah! Chissà di che cosa sanno! Oh! Che schifo! Ma sono belli comunque! E ora il rossetto! Sì! Ho finito di truccarmi! Sono così carina! Grazie, specchio! Ok! È il momento TikTok! Oh! Ma guarda com'è carina! E che bel ballo sta facendo! È ora del trucco! E anche i capelli! Accidenti! Che cosa sta facendo? No! Mamma! Che cosa stai facendo? Devo controllare le notifiche! Questo vestito non le sta affatto bene! Ma com'è divertente! Quel tipo è carino! Dovrei inviargli una foto! Wow! Che selfie! Bella! Le invierò un messaggio e le chiederò di uscire! Ottimo! Ci esco stasera! Ok! Vediamo qualche nuovo video! Questo TikTok non è male! Mi piace! Dovrei controllare mi piace su Instagram! Non male! Devo postare una nuova foto! O forse dovrei acquistare un nuovo vestito per stasera! Non ci credo! Lo sta rendendo troppo semplice! Ma cosa è stato? Me lo sarò immaginato! Mi sono aggiornata su tutti i social! Uh! Ma che belle scarpe! Le voglio! Cosa? No 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 no! La batteria! Ah! Mi serve una presa! Eccola! Ecco! Piu! Ci è mancato poco! Ma che giornataccia! Sì! Io adoro gli snack! Mmm! Caramelle gommose! Sorpresa! Delle pizze gommose! Uh! Potrei andare alle Olimpiadi! Altre caramelle gommose! Adesso corri veloce! Dovrei fare la ballerina! La ballerina e la cantante! Che volo che ho fatto! Ma è stato figo! Riesco a infilare il dito fin su! Che schifo! Schifosissimo! Wow! Come si allunga! Farò il record mondiale! Beh! È super elastico! Ah! Questa lezione è difficile! Oh! Ehi! No! Mi ha guardata! Ok! Ok! Fai finta di niente! Mi toccherò i capelli Così mi noterà! Oh! Ma che cosa sta facendo? È carino quando si pulisce il naso! È così perfetto! Oh! Ho del cibo attaccato ai denti! Preso! Wow! Era un biscotto! Ottimo! Un altro dolcetto! Accidenti! Sta mangiando un biscotto! Com'è bello mentre mangia! Stupido brufolo! E guarda come ci tiene al viso! Ecco perché ha un viso così curato! Iii! Sta bevendo! Oh cavoli! Oh cavoli! Non ci posso credere! Oh no! La lezione è finita! Devo andare all'armadietto! Bang! Bang! Iii! Li ho presi! Sono il miglior cowboy! Ciao! Ho detto ciao! Guarda! Sono una sposa! Ok! Bang! Preso! Ma ehi! Ehi! Oh! Ho capito! Ehm! Germi! Che schifo! E dimmi la mano! Oh! Ok! Ho questo! Prendi! Ah! Non sembra funzionare! Che mi dici di questa? Beh! E il mio dog fortunato? Ecco! Ti sta alla perfezione! Oh! Lo so! Avevo quest'anello in tasca! Guarda! Ti sta! Sì! È così bello! Adesso siamo sposati! Baciami! Un bacio? Orsetto salvami! L'orsetto mi ha baciata! Oh! Sei così cattivo! Sì! Sì! Buongiorno! Salve, coniglio! Ti voglio bene! Il mio vestito oggi è così bello! Forza, coniglio! Andiamo! No, non voglio le rape! Oh! Sono sveglia! Sono sveglia! Ma dov'è la sveglia? Oh! Ma perché è lontana? Oh! La la la! Devo bere qualcosa! Buono! Latte di mandorle! Odio la mattina! Mi serve qualcosa per tirarmi su! Caffè, dove sei? Oddio, sei così bello! Mi devo sedere! Chicchi dentro! Ma che buon odore! Oh! Li ho usati tutti! Aspetta, ne ho ancora! Mi servono tutti per svegliarmi! Ecco fatto! Dovrebbe bastare! L'odore è divino! Ecco qua! Sì! Quello che ci voleva! Ok, diamoci dentro! Delizioso! Adesso sì che sono sveglia! Mi serve del latte! Oh! È dappertutto! Oh no! Oh, fa niente! È stato un incidente! Facciamo qualche foto! Sorridi! Accidenti! Sei così carina! Leccherò il latte! Questo lo devo filmare! Sei troppo carina! Wow! Piacerà a tutti! Che cosa? Oh! Ma che casino! C'è spazzatura dappertutto! E anche i piatti sporchi! Ora basta! Adoro questa canzone! Oh no! La mamma! Ma perché hai fatto tutto quel casino? Vestiti e cibo dappertutto! Devi pulire adesso! No! Lo farò più tardi! Ok! Ho fatto tutte le mie cose! Oh no! È tornata! Devo ripulire tutto quanto! Se vede questo casino si infurierà! E devo anche lavare per terra! Gli scaffali li devo sistemare! Io ce l'ho fatta! Oh! La cucina! Devo fare i piatti e buttare via la spazzatura! Vediamo! Beh, va molto meglio! Ottimo lavoro! Sono fiera di te! Oh no! Devo scappare! Ma che? Torna subito qui! Cosa ti manca di quando eri bambino? Faccelo sapere nei commenti! E non dimenticare di condividere questo video con i tuoi amici e di iscriverti al nostro canale per altri video come questo!